Le donne che sanno sempre far felici il loro partner, segni zodiacali. In questo video vi ho spiegato quali sono le donne che sanno sempre far felici il partner nelle relazioni sentimentale-affettive, quali sono i segni zodiacali di queste donne. Prima e poi iscriviti a tutti i miei canali YouTube, seguimi su Instagram e su TikTok. Ma veniamo al tema. Allora, al primo posto troviamo la vergine. La vergine è un segno tignoso, rompi palle, ma quando si coinvolge sa amare, anche con trasgressione, proprio perché essendo molto razionale, da un punto di vista sentimentale-affettivo, va alla ricerca di trasgressione e è riuscita a capire, riesce a capire rapidamente, non appena il partner apre bocca, quali sono le sue esigenze. Stare con la vergine è comunque un'emozione forte, fondamentalmente, ed è una donna con la quale ci si può relazionare bene. Poi troviamo il seno del cancro. Anche il seno del cancro, la donna del cancro, è sicuramente una di quelle che appartiene al gruppo di donne che sanno rendere felice un uomo. Se avete a che fare con lei, sicuramente risulterete appagati, entusiasti. È una donna che riesce a capire quali sono, anche qua, i bisogni di un uomo e fa di tutto per, diciamo, essere interprete nella soddisfazione di questi. Poi troviamo il sagittario. La donna sagittario, diciamo, guarda il partner e capisce subito di cosa ha bisogno. Inoltre è anche trasgressiva, talvolta, nelle relazioni fisiche e quindi è veramente una donna che ha un sesto senso e la capacità di cogliere anche le sfumature più personali, più intime del partner, riuscendo ad intrigarlo e a soddisfarlo. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale YouTube Massimo Terramasco e a tutti gli altri miei canali YouTube. Attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche su Instagram, su TikTok, pagina Massimo Terramasco. Ciao!